Continuano le indiscrezioni circa presunti flirt che vedono protagonista Raoul Dumitras, volto dell'ultima edizione di Temptation Island, reduce dalla rottura con Martina de Ioannon. Questa volta, il giovane romano è finito al centro del gossip per via di una presunta frequentazione con Giulia Cavaglià, ex tronista di Uomini e Donne. La segnalazione è arrivata alcuni giorni fa a Dejanira Marzano, nella quale si parla di commenti e l'ichè che i due si sarebbero scambiati, buonasera, non so se hai visto lo scambio di commenti e l'ichè tra Raoul di Temptation Island e Giulietta Cavaglià. E poi ho notato che Raoul non segue più le sue tentatrici Nicole e Mara. Ma non è tutto. Nella giornata di ieri, infatti, Raoul ha raggiungo Torino per assistere alla gara di campionato tra Juventus e Roma, e durante il suo soggiorno nel capoluogo piemontese sarebbe stato ospite proprio a casa di Giulia. Al riguardo, è arrivata una nuova segnalazione a Dejanira. Raoul ha messo una foto a Torino, e da ciò che sembra mi sa che quella casa è di Giulia Cavaglià. L'esperta di gossip ha confermato, pare di sì. Tra l'altro già vi avevo detto che si sentivano e si sarebbero visti. Mi dispiace per lei ma so che lui ha altre storielle in giro perché si vuole divertire. Solo Martina è stata il suo grande amore e certo non se la dimentica per la Cavaglià, senza nulla togliere a lei.